buonasera ciao a tutti quando abbiamo pensato biglietti agli amici abbiamo pensato che avevamo bisogno di ritrovare anche il senso della parola il senso più più profondo più leggero della parola del suono della voce e quindi abbiamo pensato di provare a ragionare su delle cose che scrivi a un amico oggi siamo qui e io voglio ringraziare marco perché grazie perché abbiamo provato a dire facciamo scriviamoci dei biglietti ricordando le parole e le voci di persone che hanno fatto anche un pesto dell'anima e di questa città le voci di rimini a tal deg te lo dico la molla finale sul palato deg al purazzi il suono povero e tagliente di questa vongola dell'adriatico il soffio della bomboletta di eron oscia non è un ostia come sostengono milano ma l'imprecazione dello stupore romagnolo al ciacri alla giagia le chiacchiere nel relax il cigolio delle tre corde o funi che hanno impiccato i tre martiri e le campane che li ricordano a un certo punto si sostiene che una delle voci di rimini che abbia continuato nel tempo era il rombo di una mercedes 4 20 uno grande alla guida e uno più piccolo di lato e viaggiavano dalle 10 della sera a luna di notte certe volte fino alle due di notte non si fermavano mai rombavano fellini e mastroianni a marcord si doveva chiamare eborg il borgo questo era il titolo e lui con quelle baur comincia a tornare non gli va bene il titolo allora trova finalmente una parola che può andare bene remni ma remni non vuol dire niente poi c'è un problema perché c'è un accento sulla e e questo sporca il titolo e poi è aspro la voce di rimini non sta tornando fin quando trova a marcord allora l'uomo che se n'è andato l'uomo che ha lasciato il paese con la p maiuscola ed è andato a roma e a trovare fortuna trova il suono della sua voce a marcord fellini viene verso rimini pur andandosene tonino guerra tonino guerra va fuori pur rimanendo sono due illusionisti delle voci se c'è una la voce della dio che ritorna l'altro la voce del ritorno che dice addio e chi dice addio è marco pesaresi che un fotografo gigantesco al grande monumento nascosto di rimini è l'uomo del silenzio fotografava il chiasso delle discoteche ma quello che ti arrivava era il silenzio ancora una volta rimini stupisce perché sembra una cosa e siamo un'altra è sempre un andare fellini va e torna tonino guerra resta ma va marco pesaresi fa chiasso ma il silenzio che rimane perché la sua voce del silenzio è sempre stata quella della libertà grazie a tutti